Vai, vai, inno! Pronti? Via! Dica qualcosa, sono i figaretti! E' la torta del corretto, ragazzi, corretto! Ho vinto! Perché metto il flash, Martinelli? Ok. Guarda che è che è il tuo posto, eh? Si giri, Martinelli. Dica qualcosa. Dico qualcosa alla stampa. Qualcosa. Eh, che uomo, signore! Niente, non... Si gira la prima a sinistra e vedete questo lungo tunnel. Alla fine c'è la luce e adesso facciamo anche l'inquadratura del pisciatoio che è la luce che state vedendo adesso. qui è dove milioni di persone hanno fatto i loro bisogni. Questo è per scandurla. Tutto questo dobbiamo portarlo fuori. Ecco, aspetta che illumina bene. Tutto questo è per scandurla. Tutto fuori dobbiamo portarlo. Tutto fuori, tutto fuori, tutto fuori. Così. Venga. Scheretto! Dai, dai, che qui c'è... Ma metti lì sopra, non si toglie. Non si toglie, che abbiamo scoperto questa nuova pure perché ce l'ho detto in tre, che non possiamo contraddire. Sì.